. Juventus, cominciato il processo in merito alla questione biglietti, presente anche Agnelli. Ha preso ufficialmente il via il processo sportivo in merito alla questione Bagarini, con protagonista la Juventus ed il suo presidente, Andrea Agnelli. . Dopo il polverone sollevatosi nelle scorse settimane, l'incontro in tribunale affronterà anche un presunto rapporto non consentito tra la dirigenza bianconera ed alcune frange della tefoseria juventina. . 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